ciao a tutti ragazzi sono lucchetto e benvenuti nel mio canale continuiamo l'arcade scegliamo un altro personaggio direi che abbiamo lasciato indietro il dottore è gon usiamo gon 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 con il dinosauro piccolino anche dei guattoli da box con i cazzottini fa una carica poi salta elettrizza con la coda schiaccia uno scorreggino poi lancia anche il fuoco poi corre da una fuzzata poi fa così fa un po' lì poi fa l'elicotterino fa di tutto ragazzi fa anche il caffè se vuole felicissimo guardate sembra un bambino piccolo vediamo anna cosa saprà fare con gon vado a prendere morde trucco vediamo ancora l'altra l'altra presa niente facciamo una spazzata una spazzata schiacciamo scorreggino voliamo elettrico niente carichiamola in mezzo alle gambe di nina ok ragazzi ci stiamo divertendo i cazzottini basta gol fermati pochino niente non vuole fare vai gon vai gon che mossa bella boom ai 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 ci sto prendendo vai giriamo gira 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 mal in testa vabbiamo avvinto contro di king king non ricordo come si fa la spazzata ah schiaccia con la coda avanti avanti va perché dietro fa lo scorreggino oh e ora e uno e due e di qua ecco qua lo schiacciamo con la coda gon è difficile da colpirlo quindi tutti i colpi alti e medi non ci fanno niente solo i colpi bassi possono colpirci ah vogliamo pochino niente pochino elettricità ce l'avamo preso pochino niente pochino gira 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 salta salta gommi ok vieni vicino scorreggino niente eh ti prendo e ti mangio con se non sbaglio il tratto da un fumettino non mano non mi esegno vieni qua aia vai hop la la aia ci schiaccia niente non attendiamo un'altra volta ma si dai ma si un po' di aria che cosa sarà mai l'ho vinto contro brian sto giro brian andiamo pesante ci può colpire vieni vicino cascano tutti cascano tutti corre 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 brian ancora niente qui qua ecco non so perché tutti i personali sono elettrici cioè le mosse di con sono elettriche ma anche gina ha mosse elettriche final round fire niente non si fa fregare lì qua si però giro 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 niente niente ragazzi guardala oh sul giro tensione sul giro è andato male guarda si carica lì mamma tutto in faccia ragazzi se non moriamo non siamo contenti ragazzi final round fight qua scorregino anche a te niente scorregino aspetta aspetta pochino niente neanche fuoco neanche fuoco guarda com'è schiva tutto ok carri gooo ah ok alla carica ok contro e i yaci diamo i cazzottini contro i yaci cazzotti 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 congo infinita ragazzi possiamo arrivare anche anche fuori dallo schermo basta basta mal di testa mal di testa fermati congo ok anche a te c'è uno bel scorregino niente mamma mia bella questa giro tondo e saltino siamo arrivati al fine congo personaggio molto simpatico da usare le nostre buffe niente si schiva oi schiviamo un punto ma ehi fammi finire vattene via ok ragazzi finale true ogre dinosauro contro mostro non lo so mitologico no mostro di merda vai scorreggia non tiro il fuoco è gone oh si è parato non si è giardare è parato è toccala è gone vince anche lui torneo vediamo cosa combina questo simpatico burlone gone a un'isola tutta sua guardate che combina dove passa lui è un disastro via via corri corri tigre va dentro a sciapola vai qui vola vola gone ragazzi vola anche un dinosauro che vola ma non tanto ragazzi la sua ending è infinita è un loop contigo direi possiamo fermarci qui e inizia il suo giro ragazzi anche oggi l'episodio finisce qui commentate condividete lasciate l'altro alla prossima ciao ciao